Interessante è questo dipinto di Orazio Fidani del 1656 realizzato pochi anni dopo che Prato divenne da terra, divenne città e diocesi e questa è la fotografia anche questa di Prato e della processione che accompagnò il Vescovo che entrò per la prima volta in quella che era diventata la diocesi di Prato quindi qui si vede appunto il Vescovo preceduto dai chierici che entrano tutti in fila dentro la cattedrale e la gente intorno che assiste a questo grande evento il fatto che appunto Prato sotto Ferdinando II de' Medici diventasse da terra, diventasse diocesi e città veramente fu detta un'importanza notevole alla città stessa Grazie a tutti Grazie a tutti